Quest'oggi la consulta di innovazione di Anci Piemonte ospita Francesco Loriga di Infratel del Ministero che ci ha venuto a raccontare quali sono gli aggiornamenti sul bando Wi-Fi, un bando che ha suscitato moltissimo interesse tra i comuni piemontesi, in particolare tra le piccole comunità, per ovvie ragioni. Si sente tanto l'esigenza di avere banda ultralarga e sapete tutti la posizione e l'impegno di Anci Piemonte per far sì che vadano avanti i lavori di infrastrutturazione che sono il presupposto per poter avere questo tipo di servizio. Si sente tanto l'esigenza da parte delle nostre comunità di avere la copertura anche Wi-Fi. Dai lavori della consulta di oggi e quindi al confronto fra gli amministratori stanno emergendo due questioni principali. Da un lato il fatto che probabilmente le risorse europee non sono sufficienti per coprire tutte le richieste, un comune su due in Italia ha partecipato al bando e così è avvenuto anche in Piemonte, quindi è necessario che il governo prenda atto di questa istanza diffusa e capillare tra i nostri comuni italiani e quindi integri le risorse necessarie, dall'altro viene fuori l'esigenza anche di rivedere i criteri attraverso i quali queste stesse risorse verranno ridistribuite.